in particolare l'incontro con la spagna che ha portato a un emozionante pareggio per 2-2 rimarrà a lungo nella memoria dei tifosi ora l'italia si trova di fronte a una prospettiva estremamente promettente nei quarti di finale europei le sorprendenti eliminazioni di spagna portogallo e germania hanno notevolmente cambiato il campo dei partecipanti anche la francia ha dovuto piegarsi a sorpresa aprendo potenzialmente la strada all'italia alla luce della situazione attuale e delle prestazioni finora l'italia sembra effettivamente avere buone probabilità di avanzare ai quarti di finale europei e di continuare a marciare verso la finale se ciò accadesse si troverebbero in semifinale di fronte a una squadra considerata forte ma che l'italia potrebbe benissimo battere i segnali positivi fanno sognare i tifosi di un ritorno ai giorni gloriosi in cui l'italia dominava il calcio europeo in sintesi possiamo dire che la fortuna è stata fino ad ora fedele all'italia in questo torneo i sorteggi e gli sviluppi delle partite hanno aperto alla squadra azzurra un cammino promettente che fino ad ora ha percorso con abilità e impegno con successo resta da vedere se la squadra riuscirà a soddisfare le aspettative e a garantirsi un posto in semifinale le condizioni sono certamente favorevoli e i tifosi della squadra di calcio italiana possono continuare a sperare autore anita fache mercoledì 26 giugno 24